Innanzitutto faccio i complimenti al governo di San Marino che se tutto va come previsto entro fino a aprile mette in sicurezza tutta la popolazione. Ci sono poi migliaia di italiani che abitano a San Marino e altre migliaia che lavorano tutti i giorni a San Marino. Quindi una volta completata la copertura vaccinale della sua popolazione mi piacerebbe che tra i due governi ci fossimo accordo perché si cominciassero a mettere in sicurezza anche gli italiani che abitano di fianco a San Marino e quindi una collaborazione nel nome della salute e quindi del lavoro perché pensate che stanno procedendo a passi spediti sulla vaccinazione degli anziani e dei fragili e dentro 15 giorni avranno finito. Ci sono liste d'attesa in alcune zone italiane dove se hai 85 anni deve aspettare fino aprile o maggio per essere vaccinato. E' chiaro che su San Marino avrà messo in sicurezza la popolazione entro aprile, da maggio anche economicamente parlando turisticamente parlando, scolasticamente parlando, sportivamente parlando cambia il mondo. Quindi così come collaboriamo con San Marino, personalmente sto cercando di allacciare rapporti utili con altri paesi penso a Israele, penso all'India, penso a una produzione italiana oggi al Ministero di Sviluppo Economico si è svolto un'altra riunione con le case farmaceutiche bisogna fare in fretta e alla domanda ma quindi anche col vaccino russo io rispondo che per me questo è il prodotto in Russia, in Groenlandia, in Nuova Zelanda, San Marino, in Israele basta che funzioni e basta che arrivi in fretta. A me interessano poco i problemi burocratici, le lentezze, i ritardi dipendenti dall'Europa mi interessa la salute dei miei cittadini e quindi io ritengo che fanno bene quei governi europei non solo l'Austria, la Danimarca, l'Ungheria, la Ligaceca, la Slovacca e altri ne seguiranno che si muovono a 360 gradi e prima l'Agenzia del Farmaco Europeo ad esempio dà il suo ok a Johnson & Johnson che è un vaccino monodose, one shot, meglio è. La salute viene prima di tutto, viene prima della burocrazia qua non ci sono ragionamenti di alleanze strategiche, di geopolitica, se lavoriamo bene con San Marino lavoriamo bene con San Marino, punto. Se la risposta ci può arrivare da Israele o da altri paesi ben venga se l'Europa avesse fatto quello che ci aveva promesso non saremmo qua a parlare di questo.